Carissimi fratelli, sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore è da sempre dura in eterno per quanti lo temono. E la grazia del Signore, fratelli, accompagna sempre i Suoi figli. La grazia del Signore si prende cura dei Suoi figli. Si prende cura con premura, con attenzione, con generosità. Però questa grazia non sembra, anzi tante volte, non trova risposta, accoglienza, trova risiuto, viene osteggiata, rinnegata. E quando ci dice la prima lettura di quest'oggi dal profeta Geremia, che dovette svolgere il suo ministero profetico in un periodo molto, molto turbolento per Israele perché c'erano i movimenti di invasione da parte di popoli dell'Oriente come degli Assiri, prima o poi dei Babilonesi, e che andavano a combattere contro l'Egitto e Israele era in mezzo e quindi questo territorio era sempre vessato. Nel 700 a.C. il popolo del nord di Israele fu deportato in Assiria e al posto degli abitanti deportati, gli Assiri fecero immigrare altri popoli che si insediarono nel nord di Israele, dove c'è l'attuale Samaria. Vi ricordate che anche al tempo di Gesù i Samaritani non andavano d'accordo con gli ebrei perché loro non erano ebrei e avevano una religione mista, in quanto dopo il loro insediamento ci fu un'invasione di leoni e gli abitanti allora della Samaria mandarono a chiedere al re di Assiria di mandare loro dei sacerdoti ebrei che li istruissero nella religione ebraica in quanto dicevano questo fragello che noi abbiamo ci viene dal fatto che noi non conosciamo il Dio di questo luogo così loro ebbero una farinatura della fede ebraica ma non ebbero mai una fede pura come Dio chiedeva. Ecco a tempo di Geremia avevamo le invasioni da parte dei babilonesi che in una prima volta occuparono Gerusalemme, deportarono il re Joachim in Babilonia, deportarono anche tutti gli artigiani, le persone colte che potevano servire al re di Babilonia per lo sviluppo di quella nazione ma il popolo che arrestò con a capo il re Sedece insediato dal re Nabucodonosor anziché sottomettersi ai babilonesi si ribellò alleandosi agli egiziani e la conclusione fu la distruzione di Gerusalemme circa il 590 a.C. e la deportazione in massa del popolo, tanta parte della società trucidata, altri fatti fuggire, il Tempio distrutto, Gerusalemme divelte le mura, divelte e quindi non ci fu pace per Gerusalemme. E lo stesso profeta Geremia tante volte aveva a nome del Signore indicata la via della salvezza, prima di tutto la via della conversione, del ritorno al Signore perché il popolo adorava gli idoli, faceva riti magici, si dedicava all'usura e il sangue scorreva per le strade, addirittura si facevano sacrifici umani le famiglie sacrificavano i loro figli dove c'era il Toffel vicino al luogo che anche oggi esiste, quelle della Genna, le famiglie andavano a sacrificare i loro figli per ringraziarsi le divinità e la corruzione morale era dilagante, tanto che il Tempio di Gerusalemme era stato riempito di idoli osceni che venivano venerati con pratiche oscene dentro il Tempio per cui il Signore voleva salvare il suo popolo ma che non dava risposta e anche durante l'ultimo assedio di Gerusalemme il re Sedecia vuole interrogare Geremia sul da farsi e Geremia disse al re guarda, dice il Signore se tu vai dal re di Babilonia, chiedi perdono, ti sottometti salverai te stesso, la tua famiglia, salverai il Tempio, salverai il popolo ma lui ebbe paura dei notabili di Gerusalemme che assolutamente non volevano sentire parlare del re di Babilonia e quindi temete che andando dal re di Babilonia poi subisse qualche attentato da parte di questi collaborazionisti del re di Babilonia e quindi non accettò fino a che Gerusalemme fu distrutta e allora vedete, fratelli, il Signore dava la sua parola il Signore dava le sue indicazioni prima di tutto riguardando la conversione da effettuare come il mondo di oggi, fratelli, è distrutta dai suoi peccati quello che stiamo soffrendo è frutto del peccato l'uomo si è dato al peccato l'uomo ha cercato la gloria senza Dio la ricchezza senza Dio vedete se c'è ancora fede nelle famiglie c'è fede nel commercio c'è fede nelle pratiche politiche c'è fede nei divertimenti dove è Dio? e cacciate questo mondo che si sta ribellando si sta ribellando qualcuno chiede ma che sia un castigo di Dio? no! è la conseguenza del peccato voluto, provato, praticato per cui anche la terra dice il profeta Geremia voi avete contaminato con le vostre impurità e ancora aggiungi i vostri peccati hanno sconvolto l'ordine delle stagioni si parla tanto allo scendimento dei ghiacci del polo nord i ghiacciai scompariranno stanno scomparendo con la scomparsa anche della fauma degli orsi e via dicendo che si trovano in quel luogo quindi cambiamenti climatici dove non c'è più nessuna sicurezza ma c'è conversione voi vedete anche la durezza del cuore per questo il signore attraverso il profeta Geremia dice camminate sempre sulla strada che vi prescriverò perché siate felici ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio alla mia parola anzi procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio e invece di rivolgersi verso di me mi hanno voltato alle spalle guardate cosa sta avvenendo nelle scuole fratelli che di Dio non si può neanche più parlare i ragazzi sono istruiti alla delizione della religione alla delizione di Dio e tutto ciò che è morale tutto ciò che può essere rettitudine d'animo da quando i vostri padri sono usciti dall'Egitto fino ad oggi io vi ho inviato con assidua premura tutti i miei servi i profeti ma non mi hanno ascoltato né prestato orecchio anzi hanno reso dura la loro cervice divenendo peggiori dei loro padri dirai loro tutte queste cose ma non ti ascolteranno dice il Signore al profeta li chiamerai ma non ti risponderanno allora dirai loro questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore suo Dio ne accetta la correzione la fedeltà è sparita è stata bandita dalla loro bocca vedete come noi ci ritroviamo oggi fratelli in queste parole che il Signore dice al popolo di Israele e nel Vangelo troviamo un episodio Gesù libera un indemoniato muto che comincia a parlare ma i suoi denigratori dicono è per mezzi del diavolo per mezzi Belzebul capo dei demoni che gli scaccia i demoni anche le opere di carità le opere sante vengono travisate come opere sataniche come opere magiche non proveniente da Dio perciò Gesù aggiunge ogni regno diviso in se stesso ma in rovina e una casa cade sull'altra ora teniamo presente questo fratelli che col peccato voluto cosciente l'uomo sottopone se stesso al potere di satana il quale regna sull'uomo sulla famiglia sulla società a volte in maniera anzi più delle volte in maniera indiretta cioè satana inganna ti induce a fare quello che è male guardate quando è difficile oggi pronunciare la parola amore perché per amore si intende passione volgarità sensualità non si intende dono di vita santità bellezza comunione virtù tutt'altro tutt'altro eppure eppure la maggior parte della gente segue questa strada è ingannata come satana inganna inducendo l'uomo a cercare la propria realizzazione in idoli falsi nella canzone nella ricchezza nel potere nella politica nella bellezza nell'usare scarpe firmate chissà perché sono fermate una si scalda di più ma comunque è così satana inganna ti fa vedere l'altro come nemico ti fa vedere Dio come l'avversario come la causa di tutti i tuoi mali e a volte però satana entra anche nel tormentare persone e oggi si stanno moltiplicando queste situazioni mai come i nostri giorni fratelli si sente parlare di fenomeni paranormali fenomeni allucinanti a volte nelle famiglie dove le porte si aprono e si chiudono e le armate si spostano a parte le luci che si accendono e si spengono per conto loro partono le macchine senza che solo li abbia accese succede di tutto succede di tutto ma l'uomo si ravvede si invoca allora magari la benedizione l'esorcismo per essere liberati ma la prima liberazione è il ritorno al Signore la prima liberazione è sottomettersi al Signore Signore tu oggi stai chiamando tutta la nostra società a tornare a te perché tu ami questo popolo sei innamorato di questo popolo l'hai creato tu e in questo popolo tu hai impresso il tuo spirito è già il momento della creazione e vuoi che questo popolo partecipa alla tua gloria eterna per l'eternità mentre stai scegliendo altre strade tanti Signori in questi giorni stanno bussando al tuo cuore e stanno tornando a te ma una gran parte Signore ancora ti volta le spalle e noi ti supplichiamo Signore parla ancora al cuore di questo popolo perché si ravveda perché anche questa sofferenza serve a ravvedersi a vedere il male che domina porta Signore la tua misericordia verso l'umanità intera te la chiediamo in nome della tua Santa Madre Signore Gesù che da tanti anni è vicina a noi sollecitandoci alla preghiera al digiuno alla conversione tanti l'hanno ascoltata e l'ascoltano con tutto il cuore consacrandosi a lei tanti altri fanno fatica a comprendere a decidersi Signore abbia i misericordi di questo popolo che ti appartiene tuo porta il tuo nome tu per questo popolo è versato il tuo sangue dona a questo popolo oggi di ascoltarla a tua voce perché tu hai la strada della salvezza ai nostri giorni hai la strada del rinnovamento la strada della guarigione la strada della pace venga presto il tuo regno di pace Signore te lo chiediamo per indecisione tutti quei santi che durante la storia hanno piegato la loro mente e il loro cuore a te ti hanno accolto e ti hanno servito fino al martirio fino alla morte a te Gesù la lode e la gloria per tutti i secoli e dei secoli Amen e noi Vergine Santissima confidiamo la tua intercessione di madre sappiamo che in questo momento tu sei col tuo cuore materno davanti al figlio tuo per invocarlo come salvatore perché nessuno vada perduto noi confidiamo in questa tua intercessione e ci affidiamo a te con tutti noi stessi a Gesù tuo figlio il nostro Signore gloria in eterno Amen e su tutti voi fratelli scende la gloria del Signore la sua parola e intri nella vostra vita e vi porti a cercare Gesù che vi è verità e vita ed è per noi salvezza eterna Amen Grazie a tutti